Mattia Caldara bagno di folla per applaudire l'eroe di Napoli perché sono arrivati ancora cartelli, fogli, disegni che insomma ricordavano un po' la tua doppietta al Napoli. Al di là di quello tanta gente, un abbraccio da parte dei tifosi nerazzurri. Sì fa piacere vedere così c'è tanta gente che è venuta per me e sono contento che c'erano anche tanti bambini e ragazzi quindi dobbiamo cercare di continuare così per cercare di regalare una gioia incredibile ai nostri tifosi e proveremo sicuramente a arrivare in Europa. Mattia tanti giovani tifosi ovvero il futuro dell'Atalanta. Sì sì noi cerchiamo di fare, dobbiamo fare la storia dell'Atalanta quindi ogni allenamento ci impegneremo al massimo per cercare di fare appunto la storia. Ecco appunto prossimo impegno Genoa la prima di nove finali, mancano nove partite alla fine della stagione. Sì ancora sono nove partite quindi sono 27 punti, sono ancora tanti. Dobbiamo cercare di fare più vittorie possibili perché sono quelle che ti permettono di rimanere in alto e quindi già da domenica dovremo fare una grande impresa perché non è facile vincere a Genoa.